Superare le precarietà storiche dell'amministrazione e guardare a quei fondi europei, troppo spesso usati in maniera fantasiosa, come risorsa invece per la formazione dei dipendenti e poi ancora a semplificazione delle regole e dei tempi. È soddisfatta della riforma Marianna Amadia oggi a Verona per dare il suo sostegno ad Orietta Salemi. Ma ora inizia la parte difficile. Il ministro per la semplificazione e l'amministrazione pubblica l'ha chiarito subito che i decreti non bastano a loro stessi, soprattutto ora che si è entrati nella terza parte, quella attuativa. Le riforme sono processi, sforzi collettivi che chiedono di essere accompagnati anche e soprattutto dai sindaci. Risposte unitarie che devono partire dal monitoraggio, ovvero dall'applicazione concreta. Dire a un cittadino che non ci sono più risorse sprecate troppe nella giungla di partecipate pubbliche inutili, dire a un cittadino che può con un pin unico ricevere tutti i servizi dell'amministrazione pubblica, dal comune alla regione allo Stato, poter continuare. Tutti questi sono cambiamenti concreti nella vita cittadino, certo, sono direttamente proporzionali a quanto l'amministratore decide di voler collaborare a questa attuazione. Orietta Salemi è un investimento per la città di Verona, ha precisato il ministro Madia. Soffia dunque anche il vento di Roma a supporto della candidata a sindaco per il centro-sinistra. Orietta Salemi dal canto suo ha fatto i compiti a casa, semplificazione e digitalizzazione dei servizi comunali, partendo dallo SPID e dai tagli ai CDA delle partecipate. Snellire dunque l'amministrazione, ma senza ricorrere a quelle sforbiciate populiste come l'idea di un amministratore unico. E il pensiero va subito al pentastellato Alessandro Gennari. Grazie a tutti.